ciao a tutti ragazzi ed eccoci qua per una nuova presentazione un saluto a tutti quanti oh ma dove è finito il nostro motore del tapicolano è scomparso è scomparso anche lui eravamo abituati a vederlo tranquilli ragazzi ma mettiamolo un attimo da parte per adesso non lo vediamo è diventato invisibile non vorrei dire magari qualcuno ha spruzzato la vernice dell'invisibilità ed è scomparso tranquilli allora mettiamolo un attimo da parte e puntiamo nuovamente i riflettori su questi fantastici motori ragazzi che sarà sicuramente anche per voi un piacere rivederli ok che motori sono ragazzi ma ditemelo ditemelo scrivetemelo sotto che l'ultima volta non me l'avete scritto sono i fantastici motori appunto delle lavatrici esatto o motori inverter o motori universali chi di meglio chi di meglio compierà appunto avrà appunto il compito di comandare il nostro alternatore perché come avevamo detto io purtroppo non ho la fortuna di avere appunto il fiume a portata di mano voi ragazzi io spero che sarete più fortunati assolutamente sì ok e prendete quindi automaticamente baracche burattini ok prendete il vostro motore lo portate direttamente vicino al corso del fiume applicate la ruota o comunque appunto una ruota in legno di classico murino ma questo poi lo vedremo poi in un'altra presentazione ok costruite tutto il telaio in legno ok e poi produrrete tranquillamente elettricità e sarete belli felici e contenti come nelle favore ok ragazzi io invece no io invece sarò costretto utilizzare un'altra fonte chiamamolo così di energia perché comunque anche lui il nostro motore rappresentato dal motore appunto della lavatrice compierà appunto una forza per cui automaticamente per compiere la forza dovrà essere alimentato da un'altra fonte di energia cioè un'altra fonte di energia elettrica ok tipico motore perfetto per cui potremmo dire che abbiamo un motore m1 ok un motore m2 scusa mi serve un foglio sto parlando a no ok non è disponibile e non è non è disponibile questa volta ragazzi scusate devo far chilometri per andare a prenderlo ma scriveremo qualcosa la prossima volta e quindi adesso diciamolo così io scama ipoteticamente abbiamo quindi due motori perfetto motore m1 che automaticamente azionerà ok tramite trasmissione di moto a cinga rotatoria ok il moto appunto al motore m2 abbiamo detto m1 perfetto m2 il motore m2 non sarà più il nostro motore ma sarà quindi alternatore il nostro alternatore perfetto appunto che fungerà da tornato alternatore tramite trasmissione rotatoria però per far questo io devo tener conto che devo mettere un motore di cui equiparata potenza giusto ragazzi per cui prendiamo un bel motorozzo dei nostri scambi delle nostre lavatrici che sono perfetti perché più o meno hanno una potenza all'incirca di un cavallo un cavallo e mezzo giusto ragazzi ma non sono fantastici eh possiamo utilizzarli per mille usi ok per cui automaticamente come se accostassimo due motori ok perfetto o meglio un motore m1 rappresentato dal nostro lavatrice perfetto e invece poi l'alternatore perfetto ragazzi perché appunto dobbiamo considerare che dovremo far girare il grosso disco di inerzia che da solo pesa più di 5 kg perché appunto è un disco di metallo pieno non dimentichiamoci un po praticamente rappresenterà una zavorba e quindi dovremo applicare una forza sufficientemente potente chiamiamo meglio o meglio come suona male dovremo applicare una forza che sia appunto adeguata a far girare il nostro alternatore maggiore poi sarà la velocità e maggiore quindi sarà la quantità di elettricità prodotta dal nostro alternatore che andrà quindi poi ad alimentare il nostro carico o più carichi perfetto ragazzi per cui ecco perché utilizzeremo nuovamente il nostro motore della lavatrice che sarà perfetto grazie alla sua potenza da un cavallo un cavallo e mezzo ok alimentandolo però sempre in continua non siamo lì a dargli l'alternata tipica tramite svariaccando con nostro amico varia da 0 a 220 volts come al solito altrimenti raggiunge anche una velocità troppo elevata perfetto ragazzi e già che siamo qui beh azioniamolo lo so che vi manca il mio motore appunto della lavatrice perfetto non dimentichiamo anche lui dietro al suo piccolo alternatore che automaticamente ha una volta azionato il motore girando appunto il perno centrale del nostro lotore andrà a tagliare le linee di forza del quale andranno automaticamente ad accendere il piccolo led poiché la tensione nominale prodotta è molto bassa questa cosa non mi piace lo sai motori eccidenti male detto non potevi creare più tensione eh accidenti eh vabbè vabbè ci accontentiamo e quindi ragazzi riaccendiamo lo piccolo led e rivediamo ok la tensione ricordiamoci che sui tre volte e mezzo perfetto l'alternatore poi principale serviva poi per dare appunto l'impulso poi elettrico alla scheda che automaticamente poi giustisce la rotazione e quindi siamo pronti vai su ciccio questo rumore è prodotto appunto dal piccolo alternatore ricordiamocelo ecco qua che si accende ragazzi rivediamolo eh sì siamo scarsi eh siamo scarsi eh con la tensione nominale è vero perfetto ragazzi e gli stiamo fornendo a proposito una tensione nominale di 13,2 abbiamo con un consumo di 0,48 ampere ovvero 480 miliampere e io direi che possiamo anche spegnere abbiamo messo il nostro solito interruttore magnetotermico perfetto ragazzi ok e chiudi un po' tranquillo non fai rumore ok ragazzi a parte quel cricchettio perfetto ragazzi e allora ci vediamo poi nella prossima presentazione dove andremo a scoprire come proseguire col nostro amico alternatore ciao a tutti ragazzi voi iniziate pure la costruzione e ci vediamo alla prossima ciao